La rinascita di Bagnoli. Si è tenuta nel Circolo Ilva una manifestazione sportiva riservata agli atleti speciali come esempio di inclusione sociale. Un tema attuale oltre che di grande rilevanza. Un'occasione per promuovere lo sport non solo come un'attività quotidiana o di intrattenimento, ma come una vera e propria disciplina. Dopo poco nella stessa location si è svolto poi il convegno, un mare di memoria, risorse e solidarietà per tutti. Il Circolo Ilva si trova a Bagnoli e Bagnoli rappresenta anche il centro di quella che sarà la rinascita della Napoli occidentale. Sappiamo che il Comune di Napoli insieme al Governo sta lavorando appunto per la bonifica di Bagnoli. Mi fa piacere pensare e comunicare che si sta cominciando proprio dal Parco dello Sport perché sapete che Napoli ha vinto la candidatura di Capitale Europeo dello Sport 2026. Quindi la bonifica sta andando avanti e speriamo e ci auguriamo per il 2026 di poter sicuramente riacquisire e aprire finalmente il Parco dello Sport. Ma sicuramente andremo avanti e si andrà avanti anche per la bonifica di tutto il resto della città e di Bagnoli in particolare. Grazie. 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 Grazie.